Siamo con Michele Mazzarano, consigliere regionale uscente e ricandidato alla carica di consigliere per la Regione Puglia con il Partito Democratico. In una delle precedenti interviste abbiamo parlato in generale della gestione sanitaria. Ora affrontiamo l'emergenza Covid, cosa è stato fatto, come ci si è regolati e soprattutto come ci si regolerà in caso di una non certo auspicata seconda ondata. Innanzitutto di fronte ad un evento nuovo, inedito e sconosciuto, il Presidente Emiliano ha avuto la forza di affidarsi alla scienza, e agli scienziati per affronteggiare al meglio la pandemia e la sua declinazione pugliese. Abbiamo provato a rimettere in sesto quei reparti che erano molto fragili inizialmente, che servono sostanzialmente a affronteggiare la malattia, come appunto il reparto di malattie infettive, di pneumologia, di terapia intensiva in tutta la Puglia e anche a Taranto con la costruzione dell'ospedale Covid al Moscati. E questo per evitare che una esplosione del contagio potesse travolgere la risposta sanitaria. E questo è stato anche possibile perché gli uffici di prevenzione, i dipartimenti di prevenzione, hanno fatto un ottimo lavoro nella capacità di tracciare il virus. La provincia di Taranto rimane ad oggi quella meno colpita dai contagi. In un numero di tamponi che è diventato sempre più crescente, noi partivamo solo con un laboratorio, quello di Foggia, che di fatto lavorava alla diagnosi dei tamponi. Adesso in Puglia ce ne sono una diecina e ne è stato anche costruito uno pubblico della regione Puglia, che ne deve processare circa 10.000 al giorno e questo ovviamente consente ai cittadini di avere più sicurezza, di sentirsi più tutelati e ovviamente accanto alla possibilità che i cittadini abbiano tutti gli strumenti della prudenza e della sicurezza per evitare che il contagio esploda anche in questa seconda ondata, perché questa seconda ondata è altresì rischiosa se i cittadini non avranno la prudenza e gli strumenti per poter far fronte a questa malattia.